Oggi è il 25 aprile e come ogni anno abbiamo iniziato la giornata venendo alle fosse ardiatine con tutte le associazioni partigiane. Il 25 aprile è festa nazionale, è la festa di tutti e di tutte. Quindi chi non si riconosce nella festa probabilmente ha problemi anche nell'essere cittadino di questo paese cui la Costituzione, nata dalla guerra di liberazione e dalla resistenza, ha regalato libertà, diritti, democrazia, possibilità di parlare, di dire qualsiasi opinione, di manifestare, cosa che nel ventennio è stato sempre impedito e noi vorremmo che ci si rendesse conto che la storia non si può riscrivere a proprio piacimento.